Due serate all'insegna del divertimento vintage, a Lanciano torna il festival più atteso dell'estate, domenica 18 e lunedì 19 agosto, con Baciami Piccina. Abiti e look pin-up, bici storiche, ancora Harley Davidson, moto, vetture e autobus dell'epoca invaderanno Piazza Garibaldi, con il duplice intento di far divertire i partecipanti e di rivitalizzare il centro storico della città. La manifestazione, dedicata alla cultura, alla musica, alla moda degli anni 40, 50 e 60, è stata presentata da Massimo Valentini, presidente dell'Associazione Promotrice dell'Evento, assieme al direttivo con Angelo Lanci, Quintino Iacobitti e Silvio Luciani. La quinta edizione conferma il format che abbina musica e stile, confermata anche la partecipazione di Antonio Sorgentone, il pianista abruzzese e recente vincitore di Italia's Got Talent. Non mancano spettacoli di burlesque e le sfilate in abiti vintage. La novità è legata al cibo, con la speciale cantina di baciami Piccina e i piatti della tradizione. Il vicepresidente Angelo Lanci. Gli abiti, le macchine d'epoca, il mangiare, la location della cantina, che comunque ricorda tantissimi momenti di relax. Il nostro spirito è quello di riportare in luce gli anni passati, riportare questi momenti belli e comunque molto semplici. Nella sua semplicità danno una ricchezza immensa, che oggi con il tempo tutte queste cose sono andate perse.